Torno da Marco Rizzo e ritorniamo a parlare di referendum, no? Nell'appuntamento di ottobre perché credo che... Quello che diceva Farisi prima, diceva in Italia è meglio non farlo... Ma un referendum sull'Europa? Eh. Ci sarà anche ottobre, perché infatti noi sabato e domenica faremo proprio, lanceremo questi comitati per il no che hanno anche un senso europeo. Perché Renzi vuol cambiare la Costituzione? Perché sono poteri forti, chiamiamoli così, e Unione Europea che spingono verso quella direzione anche di cambiamento della Costituzione. Cioè che ci chiedono quelle modifiche. Esatto, e quindi Renzi non solo lo fa perché Guascone, lui nella politica italiana, ha scritto a se stesso il referendum in tempi diversi, di rapporti di forza diversi, ma è stato anche spinto, c'è una spinta europea che chiede all'Italia. Quindi il no a Renzi nel referendum sarà anche il no all'Unione Europea. Quindi questa è la linea, diciamo, del... Sì, è quello che no... ...del tuo partito. Esatto, esatto.